Grazie Mariccia. La scuola normale, come sapete, lavora su un ambito disciplinare che non comprende la medicina e quindi in prima approssimazione sembra che la scuola normale non c'entri con quello di cui stiamo parlando oggi. Non è così, quello che c'è dietro al sottotitolo è un valore molto importante, un concetto molto importante che sta finalmente prendendo corpo nella corporazione dei medici senza connotazione negativa alla parola corporazione. L'approccio meccanico all'affrontare la salute e la sua manutenzione è un approccio importante, sto usando i termini apposta, è importante, è quello che allunga la vita media di questo Paese che ci pone in una posizione invidiabile nel panorama internazionale, ma è un approccio parziale. Sempre più l'aspetto della cura unitaria alla persona e un concetto di persona allargato sta facendosi strada nella comunità medica. Ecco che credo che le discipline che noi coltiviamo, il tipo di contributo che la scuola può dare diventa maggiore, diventa più importante, diventa più pregnante nella vostra attività. Noi ci siamo, la scuola è piccola, quindi abbiamo poche forze, però le nostre forze sono a vostra disposizione. Come dicevo poco fa, siamo felici di ospitare questo evento e tutti gli eventi che Mariccia e la Lilt ci propongono, vorremmo fare di più e come citava Mariccia, noi ci siamo e ci saremmo e su questo potete contare. Quindi vi auguro buon lavoro, Mariccia sa, chiedo scusa se vi ho fatto, volevate ritardare di più ma io c'ho un aereo da prendere, quindi vi auguro un ottimo lavoro e spero a presto. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie.